Sabato prossimo al Centro Iende si inaugura Sardegna in mostra, di cosa si tratta? Si tratta di una mostra che hanno organizzato degli artisti di origine sardi e sardi che in parte sono anche soci del Circo Grazia dell'Eda e di cui due consiglieri del Circo. Qui abbiamo presenti alcuni degli artisti che esporranno nella mostra di sabato prossimo. Io sono Nina Meloni, mi occupo di ceramica, è una mia grande passione e sono contenta di esporre le opere che io faccio, che realizzo. Ecco, le persone possono entrare liberamente alla mostra? Come no, vogliamo tanta gente, forse è la prima volta dopo anni che non faccio la mostra alla Spezia, Intanto sono Maria Murgia, buongiorno a tutti. Noi aspettiamo che venga tanta gente in modo da riprendere come negli anni 90 che facevamo delle belle mostre. Vogliamo tanta gente. Alla fine della mostra abbiamo poi la presentazione di un libro. Sì, naturalmente dopo le 17 ci sarà un rinfresco offerto dal Circo Grazia dell'Eda. Alle ore 21 praticamente c'è la presentazione di questo libro di Cao Giuseppe, di uno scrittore sardo che viene direttamente dalla Sardegna. Lei è un'artista della mostra? Sono un'artista della mostra, sono sardo, puro sangue, orgogliosamente sardo e sono molto contento di partecipare a questa mostra. Mi occupo di riciclaggio e quindi faccio delle composizioni cercando di rimettere in vita ciò che gli altri buttano via. La mia arte è questa, cerco di dare vita a degli oggetti e delle cose che altrimenti andrebbero perdute, siano esse di ferro, siano esse di legno o pietra. Cerco di fare le combinazioni di questi tre elementi e mi auguro che tutto, sono sicuro, cioè non mi auguro, sono convinto che tutto sarà una bella festa. Lei invece si occupa prevalentemente di un materiale che è tipico sardo. Sì, io sono Francesco Ottori e lavoro in sughero, faccio qualsiasi lavoro in sughero, faccio quadri in rilievo per lo più.